Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video vi do delle idee per dei regalini di Natale. Lo scorso anno ho fatto un video come questo, vi lascio il link di quel video tra le schede nell'info box. Inoltre vi lascio anche la playlist con tutti i video che riguardano il Natale, anche se sono dello scorso anno però comunque possono andare bene anche adesso. Ci sono anche dei tutorial per creare alcune decorazioni natalizie, quindi vi metto quella playlist. Quest'anno, come lo scorso anno, due anni fa, non ricordo più, vorrei mostrarvi alcune idee per dei regalini di Natale. Sono tutte o quasi tutte cose economiche, a parte una che non costa comunque tanto, però ecco, se siete delle ragazzine sicuramente non vi potete permettere, credo, quell'oggetto, però lo voglio mostrare lo stesso. Allora, intanto una cosa che voglio mostrarvi, io le mie ce l'ho di là, mi sono scordata di prenderle, quindi casomai vi metto poi una clip, però dal 9 dicembre alla Lidl ci sono dei prodotti, scusatemi, dei prodotti per quanto riguarda i capelli che erano usciti anche lo scorso anno. Io lo scorso anno ho acquistato il phon e varie piastre, secondo me sono validi e non costano tanto, quindi volevo mostrarvelo. Allora, intanto, vedete, qua c'è la piastra per capelli ondulati, questa ce l'ho e mi piace, la piastra normale, questa qua per i boccoli, varie cose, e ho anche questa. Poi c'è, ci sono le varie spazzole che si scaldano, vedete, per lisciare i capelli, per fare i boccoli, eccetera, e poi ci sono le spazzole normali. Vi consiglio assolutamente questi prodotti perché sono validi, non si rompono, costano poco perché la piastra per fare i capelli ondulati, ad esempio, costa 20 euro, e ve lo consiglio perché sono degli altri prodotti, effettivamente durano tanto, ovvio, non sono dei prodotti come quelli dei parrucchieri, però sono buoni. Mi sembra comunque, riguardo a quelle piastre, vi avevo fatto un video qualche anno fa, lo scorso anno, due anni fa, non mi ricordo, e vi linko quel video perché i prodotti sono gli stessi, quindi anche se è un video vecchio, se volete vedere i prodotti e non riesco a mettere una clip, potete guardare quel video. Poi, sempre alla Lidl hanno un sacco di giochini in legno per i bambini, bellissimi, bellissimi. Hanno una cucina che è fantastica, tutta di legno, è adatta alle bambine, piste di macchinine, hanno un sacco di giochini molto carini alla Lidl, quindi date un occhio se avete dei bambini. Poi, da Tiger, ho un po' di cose da farvi vedere di Tiger. Allora, intanto, se state cercando un pensierino, veramente un pensierino, una sciocchezza, non sapete cosa fare, oppure avete già fatto il regalo e volete aggiungere qualcosa, o da tenere lì come regalo jolly, magari a cena qualcuno porta un amico o un'amica e non volete farvi trovare a mani vuote, io vi consiglio i cappelli di Tiger. Io ne ho due, costano 4 euro, sono semplicissimi, ci sono vari colori, questi sono quelli che ho io, sono caldissimi, perché dentro sono felpati, sono belli spessi, belli imbottiti, caldi, e io li ho in due colori, viola e grigio. Sono comodissimi, infatti credo che anche quest'anno ne prenderò un altro, perché mi trovo molto bene. Sono buoni, sono caldi, non si sciupano quando li lavato in lavatrice, mi piacciono un sacco, quindi vi consiglio anche questi cappellini, e ci sono anche carini i calzini, li vendono anche in set da due o tre paia con i calzini di Natale, sono molto carini. Da Casanova invece io ho acquistato questo qua per metterci le cialde del caffè, e c'è tutta una linea con gli omini pan di zenzero, molto carina, che tra l'altro è scontata, quindi ecco, a me una cosa così mi farebbe piacere riceverla, quindi vi lascio il link del sito di Casanova con gli omini, della linea di omini pan di zenzero, così potete guardarla. Mi aveva fatto simpatia, mi era piaciuto e quindi niente, volevo mostrarvelo. E questo scontato mi sembra di averlo pagato 11 euro, poi c'era il barattolo più grande o quello più piccolino, questo diciamo alla via di mezzo mi sembra di averlo pagato 11 euro, non ne sono sicura però. Un'altra cosa carina da regalare secondo me sono i giochi da tavola. Alla Lidl ci sono dei giochi da tavola, c'è Cluedo, ci sono vari giochi, però costano leggermente di più rispetto a Casanova e Mauriz. Casanova e Mauriz hanno giochi da tavola che costano veramente molto poco, e è carino regalarlo a Natale perché potete poi a fine pranzo, a fine scena di Natale, potete anche fare dei giochi tutti insieme. Quindi secondo me è un regalo carino da fare, il gioco da tavola. Io ho preso Taboo che era scontato e l'ho pagato mi sembra 12 euro, comunque pochissimo, anche perché i giochi da tavola ragazzi costano tantissimo in genere, quindi era super scontato e l'ho preso. Poi se no, anche da Tiger hanno un sacco di giochini da tavola, molto molto carini, a parte che hanno le carte giganti che sono grandissime, hanno anche il bingo e poi hanno anche, ne hanno vari di giochi in realtà, ne hanno tantissimi. Però io ho preso l'anno scorso ma c'è ancora questo qua, che praticamente serve, vedete ci sono queste fascettine, ve lo mettete in testa e poi avete delle carte con un simbolo da mettere sulla testa, oppure potete anche disegnarle voi e facendo delle domande dovete indovinare che figura avete in testa. Quindi molto carino, 4 euro costa, oppure proprio per il pensierino, pensierino, forza 4 che l'ho pagato 3 euro mi sembra. Anche questo è molto carino, comunque i giochi da tavola a me piacciono sempre, quindi vi consiglio anche i giochi da tavola. Altro gioco da tavola che non è di Tiger, ma ve lo voglio mostrare perché l'ho acquistato a Lucca Comics e ci sto giocando un po' comunque in questi giorni, in casa, con i parenti, con gli amici fuori e sta piacendo a tutti, dai piccini agli adulti, a tutti, quindi ve lo volevo mostrare, si chiama Dobble, non so se si pronuncia così, ce ne sono di vari tipi, c'è di Harry Potter, ci sono con i numeri, ce ne sono di vario tipo e praticamente sono delle carte rotonde, eccole qua, con vari disegni, ogni carta ha un disegno in comune con un'altra e con queste carte ci si possono fare 5 giochi diversi, divertentissimo, ve lo straconsiglio, vi metto il link su Amazon di questo e costa 14 euro, ma bellissimo, in più col fatto che potete farci 5 giochi vi divertite anche di più. Un'altra cosa che vi consiglio, però più che altro è per i pacchettini regalo in realtà, non è per come il regalo vero e proprio, allora da Tiger hanno tutta una linea natalizia anche per quanto riguarda la cartoleria e ci sono i lapis a forma di bastoncino di zucchero, i lapis con il legno, con l'albero di Natale, con l'orsacchiotto, con il fiocco rosso, oppure ci sono le penne fatte così, le penne con Babbo Natale che dà i pugni, insomma ce ne sono varie, costano un euro queste penne qui in particolare e io le utilizzo per metterle nei pacchettini, nel senso prendo il regalo, lo incarto, quando faccio il fiocco con il nastrino ci vado a posizionare la penna, in questo modo c'è un oggettino in più come il regalo e rende anche il pacchetto più simpatico, costa solamente un euro, si può fare. Se non vi piace la cosa natalizia, sono carine comunque anche le penne normali che ha Tiger, io ve ne ho prese due così, questa l'ho comprata tra l'altro da poco con un ciuchino, il raghetto, ci sono i cigni, ce ne sono un sacco, quindi potete mettere anche una penna per appellire appunto il pacchetto regalo. Da Tiger, molto carino, hanno anche le tazze, hanno tazze veramente di tutti i tipi, natalizie e non. Io ho acquistato un set, un set con tre tazze natalizie che si possono vendere separatamente, però se lo prendete insieme ha più un senso. Le tazze in questione sono queste qua, una ha i piedini di Babbo Natale, una ha il busto e l'altra ha la faccetta. Poi messe tutte insieme formano Babbo Natale, io volevo regalarle a tre persone che comunque abitano insieme, che a Natale decorano tutta la casa in modo natalizio, quindi ho detto vabbè è il regalo perfetto per loro. Poi quando sono pulite appunto le mettano uno sopra l'altro e possano avbellire anche la cucina, quindi mi piacevano molto, però ce ne erano mille mila di tazze così, veramente molto carino. Un altro regalo che vi consiglio anche se ormai dicembre è già iniziato sono i calendari dell'avvento di Tiger, ce n'è uno con tutte le gommine per cancellare, che secondo me è molto carino. Un'altra cosa per abbellire pacchetti è ad esempio invece di acquistare la bustina di carta o di plastica che poi viene buttata via, sempre da Tiger hanno delle shopper. Ora ve la mostro ma non è di Tiger questa qua e non è neanche natalizia, però insomma io ho questa, hanno delle shopper così in tessuto da Tiger, natalizie, molto molto carine, vengono un euro, quindi è anche carino magari mettere il regalo dentro una borzina di queste in modo che poi intanto hanno una borzina da tenere, quindi è un regalino in più, e poi si inquina anche meno e si spende anche meno poi alla fine perché spendere un euro per una borzina di carta che poi viene buttata via o un euro per una borzina di stoffa, preferisco spenderla per una borzina di stoffa che poi rimane anche. Poi sempre da Tiger ho visto che hanno un set a forma di bottiglia di vino con dentro i vari attrezzi per aprire appunto le bottiglie, l'ho vista anche su Amazon e vi lascio il link di quello che ho visto su Amazon, io non sono affiliata con Amazon, ve lo metto, vi metto il link solamente per facilitarvi le cose, poi voi guardate, da Tiger è leggermente diverso da quello che ho visto su Amazon, però più o meno siamo là, se riesco poi a passare da Tiger vi faccio anche delle foto. Ci sono comunque vari set per aprire le bottiglie, c'è anche un set con fiaschette varie per gli alcolici, c'è la tazza con la fiaschettina attaccata, è molto carina. Ci sono delle sciabatte natalizie, mi stavo ascoltando, bellissime da Tiger, delle pantufolone con i piedi a forma di scarpetta di elfo, molto carine. E poi da Tiger io credo che non ci sia altro che mi sono segnata, comunque sono cose che bene o male potete reperire un po' ovunque, io vi dico Tiger perché sono stata lì, però si possono trovare un po' ovunque se si cercano anche su internet. Poi un'altra cosa che ho preso da Mauriz, ma c'è anche su Amazon, io vi metto un link a caso e poi vedete voi cosa fare. È uno specchio contenitore ed è uno specchio porta gioielli. È uno specchio di quelli grandi dove ti puoi vedere a figura intera e poi una volta aperto all'interno tutti i vari gancini per appendere collane, orecchini, braccialetti, orologi ed è molto utile. Io me lo sono comprato e è un regalo che vi consiglio. L'ho acquistato da Mauriz perché veniva leggermente meno e perché volevo vederlo prima di prenderlo, però quello è un bel regalo. Da Mauriz mi sembra averlo pagato 65, su Amazon costa leggermente di più. Poi altro regalo che vi consiglio, magari per qualche maschietto, ho visto su internet un rompicapo per le bottiglie di vino. Quindi se volete aprire la bottiglia di vino dovete risolvere il rompicapo, secondo me è molto carino. Spulciate un po' perché ci sono di vari prezzi. Come al solito vi metto un link a caso di questo rompicapo, poi magari cercate quello che vi conviene di più. Una cosa che non c'entra niente con i regali di Natale, però è sempre natalizio, sono le... Volevo farvi vedere le palline di taglie per l'albero di Natale. Costano un euro, l'anno scorso mi sembra costavano due. Vi ho fatto un video l'anno scorso su alcune palline che avevo acquistato, ve lo lascio tra le schede perché le palline sono le stesse. Ne hanno aggiunte alcune nuove e ogni tot di giorni le cambiano, quindi fate più round. Quest'anno ho acquistato un uccellino, uno dog e un maialino con le ali che sono però già sull'albero e io l'albero l'ho fatto sopra un armadio, mi ci vuole la scala per arrivarci perché altrimenti il gatto me lo buttava giù. Ci sono ripassata ieri con mia zia e ho acquistato questi due. Allora, ho preso questo. È bellissimo. È un po' troppo rosa, però c'era solo rosa, quindi l'ho voluta acquistare, il Macarons. E poi, visto che ho l'hot dog, mi mancava l'hamburger, ho voluto acquistare anche l'hamburger. Sono molto carine, si rompono ovviamente, queste qua, quindi state attenti, costano un euro. A Livorno c'è un negozio che si chiama Ghiomelli, dove queste palline, che sono poi uguali, perché io l'anno scorso da Tiger ho acquistato un fenicottero, mia zia da Ghiomelli aveva acquistato un fenicottero, l'abbiamo messo accanto e sono uguali. Cambiano le piume della gonnellina, che quelle di Ghiomelli sono più belle, però sono uguali. Quella che aveva comprato mia zia l'aveva pagato sulle 30 euro, 25-30 euro. Io l'avevo pagato 2 euro da Tiger, quindi... Comunque sono molto carine. Non sono per i regali di Natale, cioè potete anche regalarle per Natale, però volevo solamente segnalarvele perché sono molto molto carine. Queste sono le mie idee per alcuni regali di Natale. Fatemi sapere voi che cosa avete intenzione di regalare o se avete dei consigli. Fatemi sapere anche se volete un altro video con dei consigli come questo. Io vi saluto, spero di esservi stata utile. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al mio canale. In questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Grazie a tutti!